Ciao, sono Andrea e sono il tuo biologo di fiducia. Oggi volevo parlarti di una delle malattie, o patologie comunque, più diffuse in acoreofilia e che spesso creano e generano confusione tra gli appassionati. Ovviamente stiamo parlando dell'idropisia. In questo video volevo semplicemente mettere giù dei punti chiave per farti capire e aiutarti a farti capire quali sono le cause che comportano l'idropisia, che cos'è l'idropisia e, se ci sono delle cause, quali sono i possibili rimedi. Ora iniziamo dal punto cardine. Che cos'è l'idropisia? L'idropisia è letteralmente un accumulo di liquido interstiziale all'interno della cavità peritoneale. Possiamo sintetizzarla più precisamente innanzitutto utilizzando un termine meno obsoleto di idropisia, ma più corretto e attuale, ovvero ascite. Fondamentalmente il corpo del pesce, in questo caso, reagisce accumulando liquido in una zona. Il liquido interstiziale è un liquido che scorre normalmente nel corpo, sia nostro che dei pesci, tra le cellule dei vari tessuti e aiuta lo scambio di sostanze tra cellula e cellula. In alcuni casi, però, essendo questo liquido comunque molto ricco e anche molto denso, può aiutare comunque lo scambio e il trasporto anche in alcune zone dove vi sono delle patologie. Lo scambio può portare appunto tutti quelli che sono i linfociti, ovvero i globuli bianchi fondamentalmente. Quindi, in alcune situazioni, si può creare questo grandissimo accumulo. Infatti, con il termine idropisia, potremmo riferirci in realtà più ad un sintomo che è di una malattia, ovvero è qualcosa che noi vediamo, ma che non è necessariamente esso stesso causa della patologia o la patologia stessa, ma potrebbe essere una reazione che il corpo del pesce ha messo in atto per cercare di combattere una patologia. Quali sono le principali sintomatologie, quindi cosa fa un acquariofilo, come fa un acquariofilo, ad accorgersi che il proprio pesce presenta questa problematica? Beh, innanzitutto di solito tende l'addome del pesce a gonfiarsi molto. All'inizio non ce ne accorgiamo, magari pensiamo che semplicemente abbia mangiato troppo. Successivamente iniziamo a vedere che il pesce inizia veramente a gonfiarsi in modo, innanzitutto molto velocemente, quindi in poco tempo, e soprattutto troppo. Cioè, si gonfia veramente in cui dall'alto possiamo osservare la pancia estendersi al di fuori della linea del corpo. Un'altra cosa che può succedere in stagli avanzati è che le scaglie del corpo del pesce si alzano, perché il pesce è troppo rigonfio e quindi escono, sembra una pigna praticamente il pesce. A questa forma, sì, sembra una pigna con tutte le scaglie rialzate. Questo è un caso in cui ovviamente l'idropsia è già molto avanzata. Se in alcuni casi può avanzare a tal punto in cui il liquido all'interno del corpo comprime la vescica notatoria o comunque va ad alterare la sua funzionalità e quindi i pesci non riescono più a mantenere o a regolare al meglio il proprio galleggiamento. Quindi abbiamo dei pesci che o stanno sempre su o stanno sempre giù, fondamentalmente, oppure nuotano in un modo molto molto strano. Cerchiamo quindi di capire quali sono le cause che possono portare a questa problematica. La prima è molto semplice ma anche molto sottovalutata e che è la congestione. Accade spesso, soprattutto in pesci come i betta, in cui l'acquariofilo tende a dare troppo cibo o un cibo comunque scarsamente digeribile dal pesce e che può da solo o in concomitanza di altre problematiche sfociare in una occlusione intestinale e quindi il pesce fondamentalmente non riesce più a defecare e continua ad accumulare mangime, se non glielo diamo ovviamente, ma soprattutto spesso il mangime inizia a fermentare all'interno del pesce e quindi è quello che può essere il principio di poi una futura infezione batterica. Il corpo del pesce per cercare di risolvere il problema inizia a aumentare comunque la quantità di liquido nel corpo del pesce e che poi ovviamente sfoccerà ovviamente nell'accumulo e in quella che poi noi osserviamo per essere idropisia. Un'altra delle cause di questa problematica appunto sono le infezioni batteriche. Può accadere che all'interno del corpo del pesce, a causa di diversi motivi, possa accadere una infezione batterica e in quel caso, come abbiamo appena visto, il corpo tende a accumulare liquido. Fra tutti una delle infezioni batteriche spesso molto difficile da risolvere o comunque anche da diagnosticare, se non ovviamente sacrificando il pesce di solito, è quella dettata dalle micobatteriosi. Sono dei batteri che solitamente tendono poi ad incistarsi e il corpo non riuscendo a combattere continua ad accumulare liquido. Allo stesso modo, dei micobatteri, potremmo trovare delle linfocisti, quindi delle infezioni virali o dei tumori addirittura, che quindi possono essere o i tumori stessi che creano questi cisti, questi globuli, comunque queste masse tumorali, quindi cellule, è il corpo per provare a limitare o comunque a ridurre il danno, continua a buttare liquido, oppure potrebbe esserci un'infezione virale che sfocia poi in un tumore. Sfocia, è brutto. Che causa poi un tumore. Queste sono le cause più comuni, ve ne sono anche altre e sono ad esempio la possibilità che ci siano delle mixospore. In questo caso, anche qui sono molto difficili da... la coreflometria ovviamente senza la strumentazione adeguata, quindi quella che possono essere la possibilità di fare analisi avanzate con vetrini, quindi con dei microscopi o poi con delle colorazioni adeguate per poter identificare al meglio la problematica. Non riesce a capirla e non potrà capirla. però sono presenti e causano veramente grossi problemi. Quindi i consigli che ti posso dare per prevenire sono una corretta alimentazione del pesce. Quindi nel caso, valuta se il tuo pesce di che cosa ha bisogno e dagli il cibo corretto. Non ricorrere a sentiti dire il tuo amico ti ha detto se non sai come fare contatta me o altri esperti e ti potremmo indirizzare magari a scegliere il mangime più corretto. Eventualmente magari ti lascio qua sotto nei commenti un mangime con cui mi sto trovando veramente molto bene per alimentare betta e poi i cibi in generale. L'ho testato anche con alcuni piccoli apistogramma e anche con gli scalari e ho visto che non solo l'hanno mangiato molto bene ma sono riusciti addirittura con alcuni test che ho fatto a vedere che riescono a metabolizzarlo veramente bene. Quindi te lo consiglio proprio. In ogni caso comunque se ti trovi già bene con i tuoi mangimi per evitare comunque la cadere di questa patologia dell'idropisia ti consiglio di fare anche cambi d'acqua in modo oculato. Quindi non andare a creare troppo stress al pesce per cercare di raggiungere i valori desiderati tutte queste cose che poi magari vanno ad accumulare stress nel pesce lui si indebolisce ha un mangime sbagliato tac eccola qua l'infezione. Un'altra cosa che ti posso consigliare eventualmente è quello di stare molto attento anche agli sbalzi di temperatura. Spesso o teniamo i pesci a una temperatura troppo elevata ti faccio un esempio con i betta che mi sono molto cari vengono spesso mantenute temperature di 28 gradi tutto l'anno è una cosa sbagliata il pesce dovrebbe stare magari d'estate ovviamente di una temperatura così visto anche la temperatura ambientale ma d'inverno potrebbe benissimo stare a 22-23 gradi e così evitiamo anche di avere delle problematiche poi in futuro. Allo stesso modo non dobbiamo scendere troppo con la temperatura perché sennò gli organi interni o gli enzimi all'interno del pesce potrebbero non funzionare correttamente e poi sfociare in patologie. quindi cerca di studiare bene l'esigenza del tuo pesce e di dargli il meglio che puoi. L'altra cosa ovviamente è evita che ci siano troppi pesci e che quindi ci sia troppa frenesia alimentare troppa concorrenza per il cibo e che quindi tu non riesci poi a dosare bene quanto cibo dare ai tuoi pesci. Se ti dovesse invece accadere la problematica dell'idropsia l'unica cosa che ti posso consigliare è di innanzitutto prendere il pesce e spostarlo in una vasca di quarantena in cui tu poi potrai seguire i trattamenti adeguati e di metterlo comunque in una condizione di meno stress possibile quindi una vasca in un posto tranquillo lascio al digiuno, inizio a vedere se effettivamente defecca e se quindi è risolvibile semplicemente magari con l'utilizzo di rilassanti muscolari in modo tale che il pesce possa sbloccarsi da quello che è il blocco intestinale. Se invece la patologia ha già iniziato un decorso un po' più accelerato ti consiglio di contattare un esperto che riesca magari a capire qual è il trattamento adeguato, in quel caso, per il tuo pesce. Non ti consiglio di fare varie prove perché spesso l'utilizzo di farmaci in animali che sono già debilitati possono ovviamente sfociare nella morte dell'animale. In ogni caso qua sotto ti lascio qualche link che potrebbe esserti utile per tutte queste patologie, queste problematiche e spero di vederti il prossimo video e niente, ciao!